Il tempo di bilancio e come tutti gli anni la polizia stradale tira le somme dell'attività svolta nel 2021 dove sono stati oltre 98.000 controlli di persone e contestate più di 90.000 infrazioni al codice della strada. Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state oltre 6.000 e sono state ritirate 457 patenti di guida e 1.116 carte di circolazione. I conducenti controllati con i tilometri e precursori sono stati 143 di cui 119 sanzionati per guida in stato di ebrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono state 24. Il confronto con il 2020 evidenzia un leggero aumento dell'incidentalità che tuttavia non è realmente rappresentativo alla luce dell'abbattimento dei valori del fenomeno infortunistico registrati in tale anno quale naturale conseguenza dei divieti imposti alla mobilità in funzione del contenimento della pandemia da Covid-19. Sono proseguiti inoltre i controlli nel settore del trasporto professionale. Particolarmente efficace è stata anche l'attività di polizia giudiziaria che ha consentito di segnalare alla giustizia complessivamente 322 persone di cui 5 arrestate o sottoposte a fermo e 317 denunciate in stato di libertà. Le squadre di polizia giudiziaria della specialità della polizia stradale costantemente impiegate in indagini settoriali sul furto e riciclaggio dei veicoli, truffe assicurative e tramite piattaforme di e-commerce e sulla contraffazione documentale in genere si sono distinte nell'ultimo anno per aver portato a termine varie attività investigative tra le quali alcune risonanze sul riciclaggio di veicoli riuscendo a rintracciarne e sequestrarne numerosi anche di notevole valore commerciale. Infine, estremamente incisiva, è il risultato all'attività di polizia amministrativa eseguita nei confronti agli esercizi commerciali e dell'attività artigiane correlata ai veicoli dell'agenzia di servizio afferente al settore automobilistico e gli autodemolitori in particolare, i suoi quali sono stati accertati e contestati svariati illeciti di natura penale e amministrativa.